campo pratica affollato e patting green dove si studiano nuove tecniche il moving day si apre con uno studio matto e disperatissimo per cercare il feeling perfetto da portare in campo nel terzo round oggi ci si gioca il team leader di domenica bella la partenza della 1 con il pubblico gli spalti della rider cup che fanno da cornice al des automobili ottantesimo open d'italia bello il fair play tra i campioni mentre romain langasque scrive il nuovo record del marco simone con 62 colpi il pubblico si appassiona al duo formato da adrian meron e julien guerrier il polacco attacca le buche della futura rider cup con la grinta di chi vuole entrare nella squadra europea il francese gioca di fino e con il birdie alla 18 si prende il comando del torneo con 12 colpi sotto al paro in record in gara le telecamere sono tutte per i campioni con un susseguirsi di interviste concitate prima del final round mentre nel villaggio ospitalità ci si goda il golf e la compagnia di molti appassionati il family open è affollato e fa divertire i più piccoli le vere star di questo ottantesimo open d'italia è stato bello oggi poter incontrare appassionati da tutta l'italia che domani torneranno per i brividi delle buche finali è stato bello vedere lei la coppa più ambita del golf italiano che brilla sotto il sole romano caldo e coinvolgente ci vediamo domani noi siamo qua pronti a cogliere un colpo speciale o una fotografia con il proprio campione del cuore sing your life